Stai bene? E tu? Dov'è tua sorella? Siamo sul super famoso Hollywood Boulevard! Oh, ciao! Ragazze, ragazze, oggi come andiamo? Ciao! Ma che fa? Dovrebbe essere già qui! Secondo te, chiunque abbia ucciso papà è lassù. Che cosa hai visto? È grande. È nella nuvola. È veloce. Non sono riuscito a vederlo. Ci serve il video. Che video? Il video. Quello che ci fa Ricky. Innegabile, singolare. Il video per opera. Il video per opera? Falla salire un po'. Ancora un po'? Non ce lo dite che c'è sotto? Col cavolo. C'è qualcosa qui. E tu sei l'unica persona al mondo in grado di riprenderla. Quella nuvola non si è mosso di un cavolo di centimetro. Cioè, avete visto un UFO in quella nuvola? L'abbiamo visto. Porca troia. Così, baby! Così! Così! E' grande. Sono arrabbiati. E vogliono attenzione. È sopra di noi. Non credo che ti prendano. se non lo guardi. Sta arrivando. Non guardare. Non guardare, non guardare, non guardare! Non guardare! Non guardare, non guardare! E' fuori! Levati! Io cerco di salvarti! Sei mio fratello, Lazzuoli! No?